Bentornati ragazzi in un nuovo video. Oggi parliamo di kiting. Innanzitutto è bene specificare che il kiting non è una tecnica utile soltanto per i ad carry, ma si estende anche a tutti i campioni a distanza e ad ogni tipo di jungler. Il kiting è una tecnica che consiste nel muoversi fra un attacco e l'altro, indietreggiando, in modo da colpire il nemico e allo stesso tempo non entrare nel suo range di attacco. Il kiting per i ad carry o i campioni a distanza in generale ha 4 obiettivi. Il primo, lo abbiamo già detto, attaccare e non essere attaccati. Il secondo è schivare gli skillshot. Il continuo movimento mette sotto pressione il nemico ed in più vi rende bersagli immobili, di conseguenza sarà più difficile colpirvi. Il terzo è riposizionarsi. Continuando a muovervi potrete riposizionarvi ogni volta in base ai movimenti nemici. Il quarto è ridurre i cooldown. Soprattutto per i mage questa cosa è importante. Arretrare mentre un nemico vi insegue vi dà anche il tempo per abbassare il tempo di ricarica delle vostre abilità, per poi riusarle appena sono pronte. Per i jungler la cosa è invece più ristretta. Infatti la maggior parte di loro è corpo a corpo e i campi della giungla né usano skillshot né sono così pericolosi da necessitare un positioning da parte vostra. L'unico vostro obiettivo è infatti ridurre i vostri cooldown ed utilizzare più volte possibile le abilità che vi aiutano nel clearing della jungle, perdendo la minor quantità di HP possibile. Ora che abbiamo specificato cos'è e a cosa serve, voglio farvi vedere come imparare a kaitare, considerando che è una delle più importanti meccaniche di League of Legends. Prima di iniziare il vero e proprio metodo, vi invito però a impostare un tasto della tastiera o del mouse per utilizzare la funzione movimento e attacca automatico. Questa si trova nel menu impostazioni, accessibile sia in partita che nel client in alto a destra. Nella finestra tasti rapidi, sotto il menu a tendina movimento giocatore. Dopo aver assegnato il tasto andate sempre nel menu impostazioni, ma stavolta nella finestra partita. In fondo a destra, come il cesso! In questa finestra troverete movimento e attacco sul puntatore. Dovete sapere che il movimento e attacco automatico funziona in due modi. Se cliccherete in un punto della mappa, il vostro campione si diriggerà in quel punto, attaccando tutti i nemici durante il percorso. La differenza sta nell'utilizzo di quel tasto nel momento in cui ci sono più nemici nel vostro range. In tal caso, se non avrete selezionato questa opzione, attaccherete il nemico più vicino a voi. In caso contrario, attaccherete quello più vicino al puntatore. Per mia esperienza, vi consiglio quindi di attivarla, in modo da evitare svariati problemi durante il kiting, tipo colpire una ward. Ora che avete impostato il tasto, possiamo andare nella modalità di allenamento. Aprite lo strumento di allenamento e disattivate la generazione di minion e l'attacco delle torri. Posizionate quindi un pupazzo nemico in un punto scelto e cliccateci sopra per iniziare ad attaccare. Ascoltate la frequenza di vostri attacchi e dopo che l'avrete memorizzata, cominciate a sostituire il tempo morto tra un attacco e l'altro con il movimento. Una volta che avrete imparato, andate in base e comprate oggetti attack speed fino ad arrivare a 1.0 e rifate. E continuate così con 1.5, 2.0 e 2.5. Gli ultimi due sono molto complicati e sarà molto difficile farli senza il tasto di movimento e attacca automatico. Ogni volta che riuscite a passare un livello utilizzando l'attacco automatico, cercate di passarlo senza utilizzarlo. Una volta finito con i fantocci, passate ai minion. Essendo bersagli immobili sarà più complicato cliccarci sopra e vi abituerete a kaitare sia con il tasto destro che con l'attacco automatico. Non importa l'astitare ai minion, l'importante è continuare a kaitare. In jungle è molto più semplice, basta muoversi indietro prima che il campo vi attacchi e poi riattaccare. Questa tecnica però non funziona contro i lamabecchi e il gromp, che sono campi ranged e quindi non kaitabili. Ma che schifo tutta sta qualità. Su youtube va di moda il trash. Ancora più trash. Ancora più trash. Ancora più tre. No porca pu... Prima di concludere dovete però sapere alcuni problemi nell'utilizzo del tasto movimento e attacca automatico. Ogni campo della giungla è considerato neutrale fino a quando non è attivato da un attacco e quindi non verrà bersagliato. Giorgio rimane neutrale anche dopo essersi attivato e quindi non verrà bersagliato. E dovrete cliccare direttamente su di lui. Le word sono considerate nemici, per questo potreste ogni tanto attaccare delle word casuali se spammate l'attacco automatico. L'ultimo consiglio che vi do, e che è più per gli ADC, è di non avere una sensibilità del mouse troppo alta. Non aiuta il kiting, anzi lo rende più complicato. Usate piuttosto una sensibilità più bassa. Io ho più o meno dimezzato la mia sensibilità del mouse nell'ultimo mese e ho migliorato di molto la mia precisione. Se volete sapere le mie impostazioni per la sensibilità del mouse, il mio mouse ha 1200 ddpi e su LOL utilizzo una sensibilità pari a 40 o 30. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile e vi invito come sempre a condividerlo, magari con i vostri amici più inesperti. Da Okami Alf è tutto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao belli!